Continua la marcia dell'Itas Trentino e continua bene perché nel big match è una partita fantastica con tanti errori, tanta pressione. Trento trova la decina vittoria di questa stagione. È forse la vittoria di Simone Giannelli più sofferta, più sentita, più importante di questa stagione? Per come è venuta fuori? Ci sono state tante partite in questa stagione sofferte. Il livello è molto alto. Quando si incontrano due squadre di alto livello per mettere pressione l'una con l'altra si vanno poi a fare degli errori. Siamo veramente contenti perché è stata una partita bella che volevamo vincere fuori casa e l'abbiamo fatto e sono veramente orgoglioso. È una Trento che adesso pensa assolutamente in grande perché finalmente quello che era stato detto all'inizio della stagione si concretizza dopo questa serie di vittorie. Ma non solo le vittorie, il gioco di Trento, la mentalità. Esatto, sono quelle due cose lì che al di là della classifica, queste cose qua, le guardavamo certo quando all'inizio abbiamo perso delle partite, però noi sappiamo cosa sappiamo fare, abbiamo la consapevolezza di ciò che siamo. Stiamo umili, vogliamo un basso e cerchiamo di fare il nostro gioco al meglio. Simone Giannelli, come vede questo 2021? Io voglio guardare con fiducia il futuro, quello che possiamo fare tutti rispettando le regole, cercando di ovviamente fare quello che ci dicono e spero veramente che sia un 2021 migliore di quello che è stato il 2020. Pian piano tutti insieme, spero che riusciremo ad uscirne con calma e fiduciosi.